Per un quarto d'ora la Dolomiti Bellunesi crede nel colpaccio contro la capolista clodiense. I Cioggiotti però non sono lì in testa alla classifica per caso e nello scontro diretto seconda contro prima vincono 2-1 e chiudono i giochi promozione festeggiando il ritorno in Serie C. Splendida la cornice di pubblico della sfida più importante del campionato con uno Zugno Itauro gremito da 1300 persone delle quali circa 500 provenienti da Chioggia. Uno spettacolo di tifo che forse in avvio intimorisce una Dolomiti meno abituata a determinate partite rispetto ai Lagunari reduci da due campionati chiusi in seconda posizione. Così al minuto 9 un errato disimpegno difensivo dà modo a bel trame di siglare l'1-0. 20 minuti sono complicatissimi per i ragazzi allenati da Nicola Zanini i quali però con il trascorrere del tempo guadagnano autostima e nella ripresa tornano alla formazione capace di vincere 8 partite consecutive e di portarsi a meno 8 dal primato. De Paoli subentra all'infortunato Caprioni al cinquantesimo e al sessantunesimo impatta in mezzo all'area il cross basso di Toniolo. 1-1 dunque sull'inerzia favorevole Anunic viene annullato a causa fuorigioco il 2-1 e poi la Dolomiti reclama un possibile rigore. Solo che al settantacinquesimo punizione laterale stacco di Munaretto che vale la promozione incide e granata festeggiata con un'invasione di campo. Noi siamo la terza o quarta squadra più giovane del campionato quindi contro una squadra esperta sia per giocatori di categoria sia per età quindi bisogna passare anche per queste cose assolutamente e dispiace tanto perché siamo competitivi siamo una squadra competitiva quindi perdere al di là che si chiami Clodiense o qualcun altro dispiace sempre però è una tappa di un percorso nostro un percorso che dobbiamo affrontare di sicuro la prossima volta che affronteremo una partita così parlo non parlo solo di squadra parlo di ambiente di tutto nel senso che queste sono partite dove vanno preparate cioè ci deve essere un'attenzione a 360 gradi da parte di tutti e quindi questi sono percorsi importanti La Dolomiti Bellunesi domenica andrà a trovare l'est e sesta forza del torneo tentando di conquistare quel punto mancante per la certezza del secondo posto in modo da affrontare in seguito con serenità d'animo prima dei playoff sia Portogruaro sia Mestre Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!